Le notizie del giorno, un quadro ritraente alla passione di Cristo e un cane morto davanti al cancello di casa sono gli elementi del macabro atto intimidatori ai danni di Carmine Dito, esponente di Italia Nostro Alto Tirreno Cosentino lasciati ieri sera dai ignoti davanti alla sua abitazione di Verbi Caro. L'uomo si batte da anni contro il bracconaggio sul caso indagano i carabinieri. Intanto arriva la solidarietà del presidente della sezione, Roberto Laprovidera. Il sindaco di Orso Mars, Antonio De Caprio, si unisce alla battaglia dell'amministrazione dei genitori di Aieta che da una settimana lottano contro l'accorpamento delle classi prima, seconda, terza e quinta elementare in un'unica classe. Ai nostri microfoni il primo cittadino ci ha spiegato le sue ragioni. Si è solidale principalmente ad Aieta, alla cittadinanza, all'amministrazione comunale, ai bambini che poi sono coloro i quali subiranno questa gestione dell'istruzione. Si è solidale ad un principio che è quello di evitare uno spopolamento pilotato che si sta portando avanti nelle piccole comunità, quelle comunità dell'entroterra che io definisco comunità e territori che danno il valore aggiunto all'Italia. E il sindaco di Verbicavo, Francesco Silvestri, è intervenuto sulla grave situazione in cui versano i comuni dell'entroterra, tra i quali il suo, ci stanno togliendo il diritto di governare. Questo ha dichiarato. Ci sono tanti problemi tutti i giorni ormai nei nostri comuni, soprattutto nei comuni piccoli, dove le esigenze sono tantissime, però la copertura economica con i tagli che ci sono stati in questi ultimi anni dai vari governi è un grosso problema. 4.000 hanno spilata a Riace sabato scorso solidali con il sindaco Mimmo Lucano che ha salutato dalla finestra della sua abitazione dove è ancora agli arresti domiciliari con il pugno chiuso i simpatizzanti. Intanto ieri nel corso della Marcia della Pace di Assisi è giunta una proposta. Candidiamo al Nobel per la Pace il modello Riace, arrivata da Flavio Lotti, coordinatore e anima della Marcia della Pace Perugia Assisi, in occasione del suo intervento per i saluti alla partenza del corteo. Ai nostri microfoni il segretario regionale di Sinistra Italiana, Angelo Broccolo. Si è ritrovato un mondo che non vedevamo da molto molto tempo, unito a contrastare questo disegno di barbarie che in Italia e in Europa rischia di prendere piede. Ancora non ha preso piede. Si è tenuto presso l'Aula Caldora dell'Università della Calabria il convegno Smart City and No Soil Sailing, Energia e Suolo, le città verso uno sviluppo sostenibile, organizzato dalle commissioni urbanistiche e territori e rapporti con l'Università dell'Ordine degli Ingegneri di Cosenza, insieme alla Fondazione Mediterranea per l'Ingegneria. Dopo i saluti istituzionali del Rettore dell'Unical Gino Mirocle Crisci, che ha parlato dell'importanza di far comprendere il valore reale del suolo in quanto bene difficilmente riciclabile, e del Presidente dell'Ordine degli Architetti di Cosenza Pasquale Costabile, è stato dopo il professor Regno Ferrari dell'Unical ad introdurre la tematica delle aree fluviali nello sviluppo del territorio tra valorizzazione ambientale e pressione antropica, soffermandosi sulle fiumare della provincia di Reggio Calabria, che rappresentano nodi cardine in tema di difesa del suolo. Una sanità che funziona eccellente del nostro territorio pur se ubicata nel martoriato plesso dell'ospedale di Praia Mare, il reparto di dialisi ha ancora una volta mostrato come si può lavorare bene salvando vite umane. Lo ha affermato in una nota Antonello Troia, responsabile provinciale di Cosenza dell'Ane ed Associazione Nazionale Dializzati. Un'anziana signora in terapia dialitica presso il nosocomio praiesa ha mostrato seri problemi respiratori. Il suo stato di salute si è improvvisamente aggravato, precipitando in acidosi. L'intervento tempestivo del medico di turno Roberto Pititto dell'Equipe Infermieristica e delle OSS ha evitato il peggio sostanziale. È stato l'intervento del rianimatore Roberto Rossetti che ha operato in sintonia con gli operatori della dialisi. Riuscendo a salvare la vita all'anziana signora, immediatamente si sono adoperati con il massaggio cardiaco e con la ventilazione. Solo dopo una buona mezz'ora la donna ha ripreso conoscenza. È tutto, grazie per averci seguito.